Buongiorno a tutti, sono Gerardo Bonomo, siamo arrivati alla decima puntata delle chiacchiere analogiche fatte dal sottoscritto. Come vedete siamo arrivati a uno dei momenti più importanti nel mondo della fotografia analogica, soprattutto in bianco e nero, ovvero sia la stampa, la camera oscura. Oggi iniziamo introducendo il concetto di ingranditore e inizieremo parlando degli ingranditori a condensatori. Buona visione a tutti dal vostro più che iridescente arrossato e intimidito Gerardo Bonomo. Allora esistono innanzitutto degli ingranditori che sono in grado di stampare solo dal formato 24x36 mm, cioè il classico formato 135 e poi ci sono degli altri ingranditori che sono in grado di stampare oltre che dal formato 135 anche dal formato 120, cioè il formato 66 e poi si va a salire, nel senso che alcuni ingranditori stampano fino a 6x6 cm, altri fino a 6x7, poi si arriva a 6x9 cm e poi si passa ai mostri, cioè l'ingranditore in grado di stampare anche le pellicole piane, cioè quelle negative che si fanno col banco ottico, che possono avere misure 10-12 cm il fotogramma, 13-18 cm per arrivare addirittura a negative da 20x25 cm, ma non è chiaramente motivo del contendere di oggi. Bene, adesso vi racconto come è fatto un ingranditore a luce condensata. Le parti che compongono un ingranditore sono la base, che di solito è in legno e masonite piuttosto spessa, la colonna lungo la quale la testa dell'ingranditore è in grado di muoversi per poter fare degli ingrandimenti minori o maggiori, poi abbiamo la testa dell'ingranditore, all'interno della testa dell'ingranditore a luce condensata è annegata la lampadina che serve poi per illuminare il negativo, di solito si usano lampadine a incandescenza da 220 volt, ma di recente sono state introdotte anche le lampade a led, sempre con attacco E27, che però riescono a avere la stessa potenza di una 100-150 watt consumando dagli 8 ai 16 watt, quindi oltre al risparmio energetico c'è anche una cosa molto importante, il fatto che le lampadine led come queste non emettono il calore delle lampadine a incandescenza. Bene, allora ho girato di 90 gradi e poi vi spiego perché, perché è una cosa che si fa nuovamente in camera oscura la testa, per farvi vedere come è fatto all'interno di una testa, in questo caso di un Dursta M601, quindi apriamo, queste sono le alette che servono per dissipare il calore della lampada incandescenza, da questa parte c'è uno specchio, questo specchio a 45 gradi proietta la luce della lampadina che è annegata all'interno dell'ingranditore, la vedete? Proietta la luce della lampadina dove ci sono i condensatori, i condensatori sono in questo punto qua dell'ingranditore. Parlando di condensatori e parlando di un ingranditore che oltre al formato 2436 fa anche il formato 6x6, questi ingranditori vengono dati con più condensatori in dotazione, a seconda del tipo di negativo si usa una determinata coppia di condensatori, i condensatori sono anche loro annegati nella testa, questo è uno dei condensatori, questo si chiama Sivo con 80 ed è uno dei condensatori che servono per stampare i 6x6 centimetri, sono in cristallo e appunto servono a condensare la luce di questa lampadina che adesso temporaneamente rimosso per avere un accesso migliore ai condensatori, servono per condensare la luce della lampadina che è stata già riflessa dallo specchio sul porta negativi dove poi c'è il negativo. Allora dicevo che il porta negativi può essere utilizzato sia con due vetri particolari, quello superiore si chiama anti newton, è un cristallo mordenzato quindi non è piatto come i vetri normali per evitare appunto i cosiddetti anelli di newton perché se la parte superiore del negativo va a contatto con un vetro completamente speculare in stampa si creano i cosiddetti anelli di newton, quindi il vetro superiore è un vetro diciamo opalino comunque mordenzato, quello inferiore invece è un cristallo puro. Ci sono anche delle maschere di metallo delimitatrici di formato per qualunque formato di pellicola, a partire addirittura dall'8x11 mm delle vecchie fotocamere Minos per passare al 24x36 mm, al 6x6, al 6x7, al 6x9 e via così. Questo porta negativi in metallo accetta sia i vetri che le maschere. Nel momento in cui noi spostiamo il negativo e utilizziamo un negativo 120, questo porta negativi a dei riferimenti che si mettono in questa posizione in modo da poter centrare automaticamente anche un negativo in formato 120. Una volta che si è accesa la lampadina e lo specchio ha riflesso la luce sui condensatori, condensatori condensano la luce nel porta negativi dove c'è il negativo e a questo punto l'immagine del negativo si proietta sul piano dell'ingranditore o sul foglio di carta, ma chiaramente qua ci deve essere un particolare vitale che è l'obiettivo perché la foto senza obiettivo non può essere ovviamente focheggiata. Gli obiettivi per ingranditori sono proprietari diciamo per ingranditori quindi non si adoperano sugli ingranditori gli obiettivi che si usano normalmente sulle fotocamere ma sono degli obiettivi progettati appositamente per avere una planarietà assoluta e una uniformità assoluta di nitidezza dal centro fino ai bordi per evitare chiaramente che in stampa la parte centrale dell'immagine risulti nitida e i bordi leggermente sfocati. Allora una volta messo il negativo nella porta negativi per prima cosa si decide la grandezza della stampa quindi sollevando o abbassando la colonna in questo modo una volta stabilito l'ingrandimento si fa la focheggiatura quindi usando questa manopola si fa scendere o si fa salire l'obiettivo quindi si aumenta o si diminuisce la distanza tra l'obiettivo e il negativo fino a focheggiare correttamente il negativo sul foglio di carta. È lo stesso principio dei soffietti per macrofotografia ed è lo stesso principio tra l'altro del banco ottico quindi vedete come dicevo prima che è tutto molto relativamente semplificato non esistono per esempio otturatori negli ingranditori perché i tempi di poso sono talmente lunghi che si manovrano con un timer e di solito sono tempi di 5 10 20 secondi quindi l'obiettivo è più semplificato rispetto a quelli normali l'ingranditore a sua volta è più semplificato perché non ha una tendina non ha un rotturatore quindi diciamo sono oggetti che sono anche più robusti meno suscettibili la rottura e che durano di più nel tempo. Una volta fatta la focheggiatura prima di mettere il foglio di carta si mette in posizione questo filtro rosso perché la carta fotografica non è sensibile alla luce rossa quindi con questo filtro posizionato tra l'obiettivo e il foglio di carta è possibile inserire il foglio di carta con il marginatore ma questo lo vedremo in un'altra puntata e poter posizionare correttamente il foglio e il marginatore senza bruciare il foglio di carta e questo come dicevo quindi è il filtro. Un'altra parte importante dell'ingranditore è il cassetto portafiltri fino a fino agli anni 60 70 la carta da stampa aveva una gradazione cosiddetta fissa quindi c'era la carta gradazione 1 2 3 4 5 e quindi se uno voleva fare una stampa morbida doveva avere un pacco di carta gradazione 0 se voleva fare una stampa gradazione medio doveva avere un pacco di carta gradazione 2 piuttosto che 3 se non aveva bisogno di contrastare moltissimo era necessaria la carta gradazione 5 quindi per ogni formato di carta ci volevano almeno tre quattro pacchi diversi di carta quindi un impegno economico non indifferente. Ilford in quel periodo inventò la carta multigrade che tra l'altro è disponibile anche prodotta da altre aziende come la roll e la poma eccetera è una carta che oltre a essere sensibile alla luce bianca e non alla luce rossa come ho spiegato prima è anche differentemente sensibile alla luce gialla e alla luce magenta ovvero se la luce tende al giallo la stampa è morbida se la luce tende al magenta la stampa è contrastata esistono dei pacchetti sempre fatti da ilford che contengono i filtri multigrade questo per esempio è il filtro 0 poi si va a mezze gradazioni questa è la mezza gradazione quindi lo 0,5 questa è la gradazione 1 e avanti così fino arrivare per esempio parlavo del magenta questa per esempio è la gradazione 3,5 vedete che è perfettamente magenta il filtro si appoggia nel cassetto portafiltri il cassetto portafiltri lo si mette in posizione e a seconda del filtro scelto si otterrà una gradazione morbida o contrastata e questo chiaramente è un vantaggio enorme bene signore e signori anche questa puntata delle quattro chiacchiere analogiche con Gerardo Bonomo termina qui questa volta vi ho parlato in generale dell'ingranditore più precisamente degli ingranditori a luce condensata e poi parleremo chiaramente della stampa da ingranditore una buona giornata a tutti dal vostro affezionatissimo Gerardo Bonomo Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!